Cremona a Brasile, fine di un feeling, almeno per ora l'interscambio commerciale col paese sudamericano infatti è precipitato, meno 50,1% nel giro di un anno. Lo rivelano i dati stati elaborati dalla Camera di Commercio di Milano-Monzabrianza-Lodi, dati che parlano di un crollo da 80.682.026 euro ai 40.242.857 euro dello scorso anno, sulla falsariga di quanto avviene in Lombardia, dove altre quattro province hanno registrato una frenata nel business intercontinentale, benché più contenuta della nostra. A risentirne è stato soprattutto l'import, meno 68,8%, ma anche l'export è sceso dal 13,1%. Cremona è così scesa dal sesto al decimo posto in Lombardia come volume d'affari col Brasile.